Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 22 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Lievi contrattempi in viaggio. Rientrando da un viaggio di lavoro solo stasera e dovendo ripartire già domani per la cassetta di vacanza, lievi ma fastidiosi contrattempi vi obbligano a una deviazione di percorso, ritardando tutti i programmi della giornata. Stessa trafila, o quasi, per chi in serata si sposta per piacere, come una cena rustica o una visita ad amici, vero che Venere e Mercurio vi rendono adattabili, più interessati alle emozioni che alle azioni, ma le vostre risorse non sono infinite, mettete in conto lievi disagi e magari un appuntamento saltato. Amore stabile ma un tantino lento rispetto alle romantiche aspettative del vostro spirito sognatore, essenziale non soccombere davanti a un cambiamento, ma trasformarlo in opportunità. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I singli incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Buona la prima mattinata per i nati di martedì, mercoledì e sabato, anche qualche piccolo colpo di fortuna o entrata di denaro potrebbe rendere piacevole la mattinata. In serata brividi ed emozioni non mancheranno a tutti gli altri. Qualche piccola difficoltà economica per i nati di domenica. Giornata difficile quella di oggi per i nati di lunedì, venerdì e sabato dalla 12 alle 18, avrete delle vere e proprie difficoltà di comunicabilità con gli altri e qualche diverbio di troppo. Per gli altri invece solo malintesi con conoscenti, colleghi e parenti, sarà opportuno chiarirsi subito per evitare litigie e allontanamenti. Oggi alcuni potrebbero perdere dati importanti lavorando al computer, fate molta attenzione a virus in agguato che potrebbero danneggiarvi il computer. Oggi potrebbe essere davvero un bel giorno se non fosse per quei pettegolezzi di troppo che siete costretti a sopportare. Fate in modo di tenerli lonatni e sarete più sereni. Il rischio di separazioni o di evidenti complicazioni nelle coppie oggi si farà sentire tutto, evitate con cura ogni discussione e ogni occasione di litigio. Meglio chiudere un occhio su molte cose che ritrovarsi poi in lacrime. Soddisfazioni in arrivo anche se chi vi sta intorno pretende molto di più da voi. Notizie in arrivo da lontano. Telefonate importanti. Sistema ciò che hai da riordinare in casa. Liete notizie infamigia o che riguardano la famiglia e i parenti. Spostamenti, viaggi, contrattazioni e contatti con parenti tutto ciò che farà insieme a più persone, in squadra, sarà favorito. Se non vuoi innervosirti, evita il contatto con gente dispersiva. Non siate precipitosi, soprattutto in amore limitatevi ad osservare gli eventi e a meditarli. Poi verrà il tempo delle decisioni, ma questo non è il momento opportuno. Tutti i pianeti si uniscono per favorirvi in questa giornata di giugno. Sarete attrenti, intellettualmente brillanti, capaci di risollevare il morale anche a chi non è così fortunato come voi. Urano e Saturno sono i vostri principali benefattori che vi guideranno verso svolte ragionate, nella sfera familiare e in campo patrimoniale, con buon senso, lucida riflessione, equilibrio. Sabato stacano vista, a segnalarlo la luna esagerata in sagittario, che quando si mette di buzz buono non si ferma più, nemmeno se l'ora di chiusura è passata da un pezzo e avete perso il treno o il pullman che in linea teorica avrebbe dovuto condurvi fuori città, nella casetta di campagna o al mare. Ma anche qui il condizionale è d'obbligo, tant'è che arrivate tardi a casa, pronti a ordinare un delivery per poi andarvene subito a nanna. Gita rimandata a domani o alla prossima settimana. Amore ed eros. A parole siete pieni di gratitudine e amore per tutti e sicuramente ci credete, ma all'atto pratico, quando si tratta di dimostrare il sentimento con azioni e scelte impegnative, correte a rifugiarvi nella tana come scoiattolini impauriti. Voglia di aiutare gli altri, peccato che oggi non riusciate a prendervi cura nemmeno di voi stessi. Il primo stepra forzare legami umani, anche tra parenti è ora di mettere fine a un contenzioso protratto per anni. Non sempre la vostra dolce metà mostra di avere la vostra sensibilità così ricca, sfaccettata e profonda come la vostra. Se siete in coppia lasciate scivolare una situazione di scarsa comunicazione oggi e non vi date troppa pena, ingigantendo solo un momento che appare del tutto normale nello scorrere di una storia d'amore. Saturno se siete nati nella seconda decade vi dona equilibrio e razionalità. I single di luglio con Urano in posizione magnifica vedono aprirsi molte opportunità di incontro, di seduzione, di possibile futura unione. Lavoro e denaro. Anziché ritenervi fortunati perché avete un lavoro, magari anche a tempo indeterminato, oggi non fate che lagnarvi, ha proprio ragione il proverbio, chi ha pane non ha denti. Vero che con l'azienda sotto organico il ritmo si fa più pesante, ma corsi di aggiornamento e master all'estero potrebbero aprirvi nuove porte, tutto dipende dalla vostra volontà. Che oggi risulta tra i grandi assenti. In questa giornata di giugno non sempre vi potete fidare dell'istinto cui ricorrete abitualmente, oggi vi conviene seguire la razionalità in ufficio. Che il cielo non mancherà di donarvi. Due dei pianeti più legati all'intelligenza, Saturno e Mercurio vi guidano nelle scelte che fare in ambito professionale, specie se avete un'attività dove siete voi a gestire e a rispondere del rendimento di altre persone. Benessere. Stomaco e fegato delicati, approfittate della mancanza di appetito per imporvi una giornata di semi digiuno, solo succhi e tisane, domattina avrete già l'incarnato più luminoso e mezzo chilo in meno. Per lei, voglia di pancione e passeggino? Parlatene col partner, vi sorprenderà scoprire che l'idea solletica anche lui. Per lui, con un cambiamento di prospettiva tutta la vostra vita vi appare di colpo diversa, non equilibrato il rapporto amore-lavoro, date troppo alla carriera e troppo poco al cuore. Colore delle emozioni, verde cupo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.